buongiorno a tutti siamo a castel caldeis dove fino al 27 ottobre è in corso la mostra castelli e acquerelli le dimore feudali delle valli del noce nelle vedute di vigilio kirchner è una mostra dedicata a una serie di 72 vedute di castelli ruderi torri medievali risalente ai primi anni venti del novecento che fu realizzata dal pittore trentino vigilio kirchner a scopo prevalentemente documentario questa serie di vedute fu riscoperta nel 1995 e acquisita l'anno successivo dal consorzio dei comuni bim dell'adige che li ha gentilmente messi a disposizione del castello del buon consiglio per questa mostra l'impresa di vigilio kirchner si inserisce in una prassi che era stata inaugurata già nella prima metà dell'ottocento da una serie di pittori e disegnatori tirolesi volta a documentare lo stato di conservazione dei castelli del tirolo la serie di kirchner è forse l'ultima di questo di questo genere ma anche una delle più complete e poiché si colloca in un'epoca in cui ancora non esisteva la fotografia a colori conserva la sua valenza documentaria la mostra è quindi una sorta di viaggio virtuale per immagini che parte dall'alta val di sole in particolare dal castello di ossana e scende lungo il corso del noce toccando il castello di croviana la rocca di samoclevo castel caldès e prosegue attraverso tutta la val di non per concludersi nella piana rotaliana la maggior parte delle vedute riguarda le dimore della nobile famiglia thun in particolare castelfondo castel braguer e castel thun a vigo di ton che è documentato da ben otto acquerelli il maniero in assoluto meglio raffigurato è però castel valer a tassullo recentemente acquisito dalla provincia autonoma di trento che kirchner immortala in nove acquerelli e in questo caso ci accompagna anche negli spazi interni raffigurando la cappella di san valerio con gli affreschi dei baskenis e il salone di un rico con gli antichi arredi che sono tuttora conservati vigilio kirchner cresciuto nella trento di fine ottocento e molto attivo nell'ambito dell'associazionismo anche musicale fu infatti co fondatore del club armonia nel 1904 e direttore di una all'epoca famosa orchestra di mandolini ma l'aspetto forse più curioso della sua vicenda biografica è un lungo soggiorno in sud africa dove insieme al cugino giuseppe tanzer fondò una ditta di pittura e decorazione murale e anche un'orchestra internazionale di mandolini che fu attiva a joannesburg Grazie Grazie Grazie